Dura soltanto un giorno la maglia rossa di Kenelisonde che la perde nella stessa tappa della Vuelta che va da Requena ad alto della montagna de Cuyera in una tappa di 158,3 km con un Ipuerto. Amici e amici appassionati di grande ciclismo, specialmente spagnolo, buon pomeriggio e benvenuti su Morino Sporciano e ragazzi. Parliamo di questa tappa numero 6 della Vuelta in Spagna, dopo un po' di frazioni abbastanza deludenti dal punto di vista dello spettacolo. Ieri c'è stato il cambio di maglia rossa che è passata dalle spalle di René Taramae a quella di Kenelisonde a causa di una caduta dell'Essone della Intermarché Montigobert. Quest'oggi il corridore della Terxia Gafredo voleva tenere la maglia. Tant'è che nei primi chilometri, in questa che potrebbe essere considerata una tappa da fughe, la fuga non parte. La fuga parte dopo una cinquantina di chilometri. Ci sono cinque corridori all'attacco che saranno i grandi protagonisti di giornata. Si tratta infatti di Bow dell'Escotel Euskadi, di Ryan Gibbons della White Team Emirates, Lindemann, corridore della Kubeka Nextash. In fuga c'è anche Jets Ball, corridore della Burgos e Magnus Court Nielsen, corridore dell'Education First Nippo, il TripAdvisor del gruppo. Dovete sapere chiaramente il meme di Magnus Court. I cinque cercano di diventare sei, però Guineve parte troppo tardi e quindi alla fine stava a bagnomari e quindi viene ripreso dal gruppo Maglia Rossa. La Trek non vuole lasciare la maglia, tante che i cinque raggiungono un vattaggio massimo di sei minuti. Potevano avere anche l'occasione di arrivare, però visto che questa è la prima tappa costiera della Vuelta, infatti siamo sulla costa della Comunità Valenziana, si creano dei ventagli. C'è una condizione di ventaglio negli ultimi cinquanta chilometri di gara, infatti la situazione si fa interessante con il gruppo che si spezza in due. Un dettaglio creato in particolar modo dalla Movistar, dal Duovisma e dalla Ineos, con alcuni corridori che inizialmente rimangono fregati come Kenny Lisonde, che veramente a un certo punto si pensava non potesse rientrare più. Fortunatamente però tutti riescono a rimanere abbastanza uniti fino all'inizio della salita. Addirittura Carty ha dovuto fare un grandissimo sforzo con i suoi corridori per tornare davanti, era rimasto dietro e riesce a raggiungere il gruppo Maglia Rossa intorno al, più o meno, a sette chilometri dalla conclusione. I cinque al comando inizieranno la salita con un vantaggio di 25-30 secondi nei confronti del gruppo Maglia Rossa. Quello più accreditato alla vittoria è chiaramente Magnus Cort, fa lo scatto del morto Bou che poco dopo si staccherà e non so perché la giuria darà la vittoria appunto del premio di miglior fuggitivo al corridore delle Uscali. Forse perché è spagnolo, forse no, ora vi dico il perché. Secondo me questo premio è immeritato, perché ancora non vi ho detto il nome del vincitore. Comunque, resta praticamente da solo Magnus Cort, dietro lui soltanto Lindemann, il gruppo ha una quindicina di secondi, tirato inizialmente dalla Inos Grenadiers che fa una tirata clamorosa con Jonathan Arvaz nelle prime cittadine di metri di questa salita che misura quasi due chilometri con una potenza media intorno al 9%, salita veramente molto molto dura e successivamente c'è un po' di anarchia in questa salita. Con la Movistar che prova a fare il ritmo, Lopez che prova ad attaccare, e Matthews che si trova nel gruppo dei migliori e prova in qualche modo ad abbassare il ritmo e ad andare di passo a riprendere Magnus Cort. Fatto sta che Magnus Cort non verrà mai ripreso, anzi lo riprenderà soltanto Roglic negli ultimi metri che scatta negli ultimi centinaia di metri e qui arriviamo al dunque. Ha vinto Magnus Cort la tappa, quindi chiaramente il premio se lo meritava lui. Però, Roglic ha lasciato la tappa come è successo nella tappa della preginizia di quest'anno a Gino Meder? Cioè come non ha fatto nella tappa appunto della preginizia a Gino Meder? Questa è la domanda che ci facciamo tutti noi. In questo caso Roglic ha capito la lezione e stavolta ha lasciato la tappa mentre l'ultima volta è stato abbastanza, diciamo, cannibale prendendosi la frazione appunto che era destinata al corridore della Barin-Victorius. Non si sa. Comunque Magnus Cort e Primoz Roglic arriveranno da soli. Ottimo Baggioli a due secondi, terza posizione per lui. Quarto Vlasov a quattro secondi che si riprende dopo delle giornate abbastanza complicate e quinto Mass, sempre a quattro secondi. Poi Matius a sei secondi. A otto secondi Valverde e Bernal che perdono quindi quattordici secondi da Roglic perché prende anche la buona della seconda posizione. A nove secondi Michelangelopez a sedici Grosciartner a ventuno della cruza venticinque Ciccone che quindi perde trentuno secondi nei confronti di Primoz Roglic insieme ad Adam Yates. Poi a ventisette secondi arriva una sfilza di corridori. Poi Lanzaramburu, Aru, Kron, Mentes, Landa, Carapaz, Champussen, Rudy Molar. Fra i corridori che perdono terreno Jack Hague arriva a trentaquattro secondi da qui in poi quindi dicevole le più importanti. Ciccone secondi Guillaume Martin e poi qua ho un Sepkus a un minuto e Mark Pabun a ciccone secondi ma erano già fuori classifica. Quindi la maglia rossa va ancora una volta sulle spalle di Primoz Roglic che guida quindi la Cassia Generale. Seconda posizione per Enric Mass a venticinque secondi a trentasise secondi Lopez a quarantuno Valverde quindi secondi terzi e quarti della Movistar. Poi a 41 secondi Bernal a 53 Vlasov che recupera 5 posizioni. A 58 secondi Ciccone in top 10. Scende di 5 posizioni Kalomejano a 1.04. Landa a 1.12. Fabio Aru a 1.17 in top 10. A 1.22 Yates, 1.42 Jan Polans e poi via via tutti gli altri. Una vuelta assolutamente da non perdere. Domani ci sarà una tappa importante. Mi sembra che si arriva al Balcone di Alicante e così partenza da Gandia. Ci saranno ben 5 Grand Prix della montagna prima dell'arrivo in salita finale. Quindi ci sarà da divertirsi. La tappa andrà vista da un po' prima rispetto a come lo si guarda attualmente visto che sono quasi tutti un Iperto. Ragazzi, vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!